Ti presentiamo una delle ricompense più popolari ambiti di Ultima Business, il Rank Bonus. Raggiungendo nuovi ranghi del sistema, i partner non solo diventano veri e propri eroi per l'intera community, ma ricevono anche un premio considerevole per i loro risultati. Ultima Business prevede 16 ranghi esclusivi. Più alto il rango, maggiore il premio. L'importo massimo del bonus è di 10 milioni di euro e in totale puoi guadagnare fino a 20 milioni di euro. Non troverai un'opportunità simile da nessun'altra parte. Non è un caso che questi ranghi sono simbolizzati da pietre preziose. Siamo orgogliosi di tutti coloro che raggiungono un nuovo livello e siamo davvero felici di poter incoraggiare questa crescita. Sfrutta al massimo Ultima Business con il Rank Bonus. Ti auguriamo successo e una rapida crescita.